Tutto rinviato al 13 gennaio del 2021, ancora un anno e mezzo per mettere la parola fina al processo civile per la morte dell'israeliano Amade Hussein, chiamato Micheloni dei suoi amici, uno degli otto ragazzi che hanno perso la vita nel crollo della casa dello studente la notte del seppile 2009. Esattamente a dieci anni dall'anniversario del terremoto che ha riportato tanta attenzione sulla tragedia dell'Aquila e il dolore per la morte dei giovani che all'Aquila avevano riposto i loro sogni e le loro speranze, non trova ancora risposta. Nell'udienza di Ferragosto il 16 agosto 2019, il Tribunale Civile dell'Aquila aveva condannato la regione Abruzzo e l'azienda per il diritto allo studio a pagare 1.200.000 euro ai familiari di Amade. Soldi avevano detto all'epoca i genitori del giovane che non sarebbero certo serviti per risarcire la morte del figlio. Solo un passo verso la giustizia morale che però stenta ancora ad arrivare. Una sentenza di risarcimento immediatamente esecutiva ma sino a oggi nella regione e nella DSU hanno onorato la sentenza nonostante ci sia un'assicurazione aperta proprio a questo scopo. Oggi l'udienza al Tribunale dell'Aquila per l'appello presentato dalla regione Abruzzo e dalla DSU contro la sentenza di Ferragosto. Resta l'amarezza dei familiari delle giovani vittime decedute sotto le maciere della casa dello studente. La giudice Croci a Ferragosto del 2018 ha emesso la sentenza che condannava per responsabilità della morte di questo giovane ragazzo la regione Abruzzo e l'ADUSU. Perché? Perché questi enti che erano l'uno proprietario e l'altro usuario non hanno prestato la giusta attenzione ai giovani studenti fuori sede e non hanno quindi tenuto conto del fatto che era un edificio che non aveva le caratteristiche giuste per resistere a un'area sismica come era l'Aquila ma addirittura hanno colposamente destinato un edificio con criticità strutturali ad albergo per studenti fuori sede. E oggi sentire dire dalla magistrata di turno che l'ADUSU si oppone alla richiesta di Amai Dussen e altri la regione si oppone, anzi la regione contro Amai Dussen e altri contro Amai Dussen e altri significa contro gli otto ragazzi che hanno perso la vita sotto le macerie della casa dello studente perché evidentemente qualcuno non si è preoccupato di proteggerli.